Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra qualcosa di simile perché l'embolica non so suonare. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Un giorno ho detto ma come si potrebbe fare con una chitarra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.